Perfetto Signore e signori, buongiorno Oggi vi dimostreremo che l'esistenza di un nostro carissimo amico non è valsa per niente Bruno Rinaldi ha lasciato una traccia indelebile nel mondo dello sport Ci ha dimostrato tanto, ci ha dato tanto Oggi vi potremo dimostrare che la sua esistenza come atleta ci ha dimostrato che Bruno Rinaldi è stato qualcosa di più di un atleta Bruno Rinaldi è stato un esempio di vita, è stato qualcosa per cui credere Alcune persone l'hanno soprannominato anche il guru della team box Bruno Rinaldi, questo è un omaggio dedicato a te Signore e signori, siamo venuti a presentarvi l'emolo di Bruno Rinaldi Guardate lo stile, lo stile è come lui, è come lui Guardate, sicurezza nei movimenti Massima scioltezza nell'esecuzione E lui, è lui, ha sempre tutto sotto controllo Bruno Rinaldi, vive ancora con noi Bruno Rinaldi è con noi Calma, calma ragazzo, calma ragazzo Saluta il tuo maestro Bruno Rinaldi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti